guarda 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 io ve la faccio come il baffo venga ma che cazzo è sto semafro quello di Vanna Marching vivendo questa vettura nuova nuova del del 2005 6 7 58.000 km 50 veri reali mai usata mai usata ma veramente ha fatto 10 km al giorno si e no scusate lavoro casa casa lavoro tutti i giorni 5-6 km al giorno forse 10 5-6 km al giorno è una volta a settimana in autostrada qualche chilometro per scioglio il motore per 10 anni 15 anni nuova motore forse neanche non ha finito non ha finito neanche il rodaggio te la vendo la volete bellissima nuova no ah dimenticavo c'è solo un problema c'è solo un problema problema cioè non è un problema grave poi possiamo posso fare uno sconto sul prezzo addirittura potrebbe essere anche un aumento perché dipende allora troverete una signora ogni tanto una signora qua che si aggira attorno alla macchia neanche c'entra forse dentro e voi fate finta di niente è sempre quella là del salotto criminale fate finta di niente assecondatela fate come come vi dice lei poi fate come mi sembra giusto fate la stanza fate finta di niente è tutto compreso ciao ce la diamo in giro a sistemare le cose per fare quello che si deve fare questa strada un po' trafficata facciamo un ginetto guarda ravigo mi trasformo dove siete figli di succarina attra a buongiori a buongiori a buongiori a buongiori Grazie a tutti.